Ben ritrovati sul canale, sempre a questa nuova location, molto, molto rilassata, non so scherzare. Allora oggi cosa vi porto? Oggi vi porto questo prodotto che avete visto sicuramente nell'unboxing. E cosa serve? Serve per congelare, diciamo, il ghiassolo a forma di sfera, per poter usufruire di superalcolici o cocktail o quello che volete, con degli effetti molto belli. Andiamo ad aprire la confezione, all'interno c'è questo prodotto in silicone, che va messo nel sfruggiatore, si estrae la parte sopra, si va ad inserire l'acqua all'interno o una qualsiasi bevanda, loro addirittura spiegano che potete mettere l'acqua, loro consegnano l'acqua, perché consigliano l'acqua, perché voi potete, questo qua si apre apposta, si apre per estrarlo, però si apre apposta per poter mettere tipo dei fiori all'interno, la menta e così via, lo si chiude, una volta che avete messo delle decorazioni commessibili, si aggiunge l'acqua, anche colorata con dei coloranti, lo mettete in sfruggiatore, quando è pronto lo andate a estrarre, prendete la vostra sfera, la mettete nel bicchiere, ci andate ad aggiungere il vostro cocktail o il superalcolico e avete questo bicchiere o il decorato molto molto bello. Per me potrebbe essere anche una buona idea per un regalo, ormai di Natale no, però per un qualche compleanno o qualcosa del genere. Qui avete il manuale di istruzioni che poi c'è solamente il sito di internet, con il bigliettino che vi dice che è originale, e qui un micro manuale di istruzioni solamente in inglese, che vi dice praticamente quello che va fatto che vi ho appena spiegato. Per me è un prodottino che può funzionare bene, è costruito bene perché è un buon silicone, molto morbido, ha i piedini per non farlo cascare, quindi molto molto bello. Soprattutto secondo me si possono fare, soprattutto anche in estate, dei veri cocktail fatti in casa, molto particolari, perché anche solamente fare un mojito diverso si mette la menta all'interno, se va a chiudere, si va ad aggiungere, se volete fare qualcosa di diverso, anche solamente l'acquatonica, e sfruggere direttamente l'acquatonica con la menta all'interno, o addirittura la menta allo zucchero e l'acquatonica, quindi avete già la palla già pronta, se andate solamente ad aggiungere il rum dopo, potrebbe essere come un buon prodottino, simpatico e intelligente per chi ama i cocktail, chi ama qualche superacodico decorato o così via. Per me può essere interessante. Un saluto e a un prossimo video. So che questo video è corto, ma ve l'ho voluto far vedere, perché mi sembra proprio una cosa molto molto carina. Non c'è nessuna immagine che ve lo mostra, comunque ve lo faccio vedere in piccolo qui. Guardate che bello, la sfera dentro il bicchiere, qui vedete anche la sfera decorata, ma si vede molto in piccolo. Comunque, un saluto e un prossimo video. Ciao ragazzi!